Sempre via Piova Torre troviamo questi terreni di proprietà sconosciuta e misteriosa, dietro a queste reti è pieno di deposito di qualunque oggetto immaginabile e non si sa se è normale oppure se c'è qualcosa che non quadra, perché queste sono delle vere e proprie discariche Qui siamo praticamente in fondo al di Aromania, sempre sotto la futilità Materiali da visione sconosciuta, sembra isolante, lana di roccia, lana di vetro, non si capisce Qui c'è un altro deposito di materiali sconosciuti, che sembrano isolanti, lana di vetro, lana di roccia, serbatoi in Ethernet Spassatura assortita, sempre il solito discorso A chi interessa tutto questo, lo è nessuno, lana di vetro Grazie! 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 Grazie!